Il territorio piemontese ha, negli anni, promosso numerosi progetti di digitalizzazione. Si possono citare progetti come Guarini, la Biblioteca Digitale, Sibiene e Storia per l'Industria. Questi progetti, che valorizzano immagini digitalizzate, audio e video, sono progetti che comunque non sono legati gli uni agli altri. Il nostro obiettivo è provare a creare un nuovo luogo, che poi avrà un nome, che potrà essere Biblioteca Digitale Piemontese, Digital Library, che provi a valorizzare tutti questi progetti integrandoli. La via dell'integrazione è data dalla tecnologia. Ovvero, attraverso i nuovi strumenti, i quali il web semantico. Tutte le fonti informative dei progetti che ho citato sono ricche di metadati. Questi metadati, queste discrezioni, sono assolutamente fondamentali e utili per poter creare delle connessioni e per traguardare verso quello che è il web semantico, detto anche web 3.0. È da lì che abbiamo pensato di chiamare luogo 3.0, un luogo che utilizza la tecnologia semantica per poter valorizzare ed integrare. In questo modo, le ricerche che io posso andare a fare, in un pavese, in un volario, o qualsiasi altra ricerca, viaggia trasversalmente tra le diverse fonte e mi permette di creare dei legami che apparentemente non sono noti, ma che l'ontologia mi permette di scoprire. Stamattina citavo durante l'intervento la scoperta del legame tra tazzo nuvolari e Danunz. Abbiamo scoperto che Danunz aveva una passione per nuvolare e regalò un oggetto, una tartaruga che divenne simbolo di nuvolare. Questa l'abbiamo scoperto mettendo insieme fonti diverse e costruendo queste ontologie che possono correlare le informazioni. Quindi il luogo 3.0 è un portale rivolto ai cittadini affinché possano analizzare, consultare, fruire di queste informazioni. In più pensiamo che possa diventare un luogo partecipato, cioè chiediamo a tutti i cittadini di inviare delle foto che riguardino in qualche modo la storia del Piemonte, corredata magari anche da qualche descrizione, e si potrà immaginare che queste informazioni, se sono ricche di informazioni e soprattutto se sono interessanti, possono rientrare in questo luogo e contribuire così a creare la storia del Piemonte. Quindi attraverso le tecnologie che il C6 Piemonte può mettere a disposizione riusciamo quindi ad avere un luogo 3.0 che è veramente a prova di futuro e che mette a disposizione delle generazioni future la storia del Piemonte, fatta dagli enti ma fatta anche da noi.